Gli investigatori ne sono certi, l'omicidio di Giuseppe Fabio Gioffre è stato compiuto con modalità mafiose, sia per le armi utilizzate che per la dinamica. Continuano a indagare a ritmo serrato i carabinieri della Compagnia di Palmi per far luce sul delitto del pregiudicato 39enne avvenuto sabato scorso in località Venere, a Seminara. Quattro colpi di fucile a palettoni sparati in testa, i due killer non volevano rischiare di sbagliare e infatti Gioffre è morto sul colpo. Subito dopo l'agguato, i carabinieri, stretto contatto con la procura di Palmi e la DDA Regina a cui il caso arriverà per competenza, hanno raccolto la testimonianza dei parenti della vittima che hanno lanciato l'allarme. Alcuni familiari di Gioffre infatti stavano lavorando nei campi vicini al casolare, teatro dell'omicidio. Anche la moglie di Gioffre è stata interrogata per ore. Ogni dettaglio può essere utile per comprendere il movente dell'agguato, che comunque gli inquirenti non riconducono a riacuirsi della faida tra la famiglia di Gioffre alias Andoli e i cai alagana Gioffre, detti in grisi, che un decennio fa ha insanguinato Seminara. Nel frattempo migliorano le condizioni di Nicolai, il bambino bulgaro di dieci anni, ferito all'addome durante l'agguato da uno dei proiettili. Ieri il piccolo ha ricevuto la visita in ospedale del presidente della regione, Mario Liverio. Non è escluso che nei prossimi giorni possa essere sentito dagli inquirenti insieme ad uno staff di psicologi. Nicolai potrebbe essere il testimone oculare dell'omicidio ed è per questo che per lui e la sua famiglia sono state predisposte forme di tutela. Angela Panzera per la Cineus 24